Sono pronto Eccoci di nuovo qui ragazzi Dopo molto tempo Di nuovo su bastion Ed è il gioco davvero più figo Che ci sia Diciamo che ce l'avevamo lasciati Questo tizio qua I boss che avevamo ucciso Zalp che aveva scappato La zia Sì 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 Ti levi appunto sigillato Zalp Diciamo che erano gli appunti Che il padre aveva consegnato a Zalp Zalp Aveva diciamo dato Ho gettato via Diciamo Chiudo se lo sa quanto sopravvissero C'è tutta la gente che l'ha diventata di pietra Comunque finalmente ricomincerò a fare anche un video sui Pecchi gameplay che facciamo Sulla Mr. X Ehm Usa il monumento Ah possiamo usarlo Ah ecco abbiamo Che succede? Non so perchè ma vedo l'ambientazione un po' più cupa del solito eh Fornace Possiamo potenziare Un po' No Mmm Roba affilata Roba stravagante Un pallottone bro Le pallottone provoche un abbattimento Molto Modifiche militari dell'ight Dovete migliorare il potere Ehm Io preferisco la velocità Allora posso soluzionare solo uno già Poi Roba unta Roba grezza Qua si fa Ho capito Mi sembra che c'era una cosa dove potevamo Vendere Dico Arzo Ah ecco si si Carabina E ce l'abbiamo Picca dei sigli Arme offensiva per il combattimento d'ovvicinato Abba ma noi andiamo solo di combattimento con Moschetto e carabina ok Poi ultimo avvertimento Bla 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 Io preferisco Eh dove Come Che cos'è questo C'è ragazzi è da tanto io non ci gioco eh Eh Mi da contatto Preferisco la granata Con quello Ok Mi sembra che si potevano vendere tipo degli oggetti No Andiamo avanti Memoriale Ah qua se ci stanno gli obiettivi Devo ricordarmi un po' come si gioca Oggetti smarriti Eh non ne ho abbastanza però Che cos'è questo Casella postale Ma non c'è niente No io la pipa non la tocco eh Non ci penso neanche Per chi sa Che a giocare a questo gioco sa Che la pipa È bastarda Ma molto Ok Abbiamo un po' Abbiamo un po' Queste qua sono missioni secondarie Perché fa così tipo Trema tutta la visuale un po' Eh Questa Calderone di Colford Questa zona è stabile Deve un tempo Ma in che cazzo di posto siamo finiti Qualcuno me lo spiega ok doppietta minchia l'adoro l'adoro io questo fucile ragazzi ok qua ci stanno dei piccoli ah eh già mi ha tolto vita mmm si sono fatti forti chi è che spara la madonna ti smonto ah ma ma non c'è bisogno il milo proprio al massimo posso anche spaccarlo così bene bene no io ho paura no ragazzi mi da un fastidio quando sparano queste schifezze dai e scoppia verme è che già mi toglie vita ah già c'ho la granata benissimo bene bene andiamo avanti poi devo man mano lo potenzio questo aumentò la velocità con cui mira che cos'è questo mantici impiammati oh che figata ragazzi ma brucia oh ma si deve incaricare brucia bruciate stronzi no ti devi levare per favore oh no no io li odio a questi io li odio questi piselloni volanti cioè oh madonna ma chi è che scorreggia la musica del gioco è fighissima come sempre divento una dipendenza anche buttarsi giù alle montagne roba pesante no oh cazzo si ma guarisci non solo uno come che faccio qui ragazzi no così non gli devo fare nulla ah ecco di qua dovevo scendere è la strada è la nascosta bene piccioni maledetti che cagate sempre sopra i panni sopra i panni i panni in balcone con una persona stand voi andate e gli cagatevi sopra piccioni di merda no l'ha perso donna se mi prendo si ma ma grazie al cazzo però eh lucia ti faccio diventare dipendente ok ok ma io una cosa che mi dà fastidio è che cambia la doppietta ah ma madonna oh e quello l'avevo spuntato aspetta aspetta perché questo stronzo le vuole pigliare di santa ecco le voleva prendere e le ha prese un altro un altro sei tranquillo che adesso mi avvicino col mio amico lancia fiamme ma brucia ma c'è che dire adesso si f***o ecco sei morto hai visto ti avevo detto di non giocare col fuoco ok pure quest'altro è andato guarda 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 come si spawnano proprio cioè te li trovi davanti all'improvviso ok questa è la tattica che cos'è questo nido dei pecchi non mi vado di starmi la leggera madonna adatti punto la ma la valore per se di me un altro un altro guarda guardalo scoppia st ma proseguimo ugualmente vai brucia cazzo si ok togliermi di mezzo tutta questa schifezza sto con il docco ah boh no si se un cagasotto ora sto venendo pulire da te eh stai tranquillo ma chi è che mi spara ste caccole incendiarie dai eh ok mi curo abbiamo trovato il cristallo bene particella dovevamo averlo ecco adesso è qua che rolla tutto come al solito come al solito non ci lasciano mai andare mai mai dai sti caccia cos'è dove devo andare guarda dai non dipende da me il terreno che si deve arrivare più velocemente però eh dai vai andiamo via andiamo via dai dai non fare il mona così ti stai comportando da moda eh te lo sto dicendo ok no come è fatto a cadere ecco i piccioni ecco i piccioni guarda questo è per tutte le cagate che mi avete fatto sopra i panni stessi fuori in balcone mi sono curato e siamo arrivati al nostro skyway siamo volati in alto nel cielo sessuale ai pochi ai pochi non still in bocchi comes becco ma l'aspetto dell'interno di una cibacompa ok se la postale non c'è niente andiamo dall'azienda nido dei vecchi suora apriamo tutti i canzoni amici di questi tempi quindi questo è un segno accogliente guarda pecchio te lo dico tutto piccioni di merda te lo dico se provi a cagarmi sopra i panni stessi in balcone ti spacco anzi ti faccio fare la stessa prima di due amici ti brucio proprio monumento prima un po' la particella funziona anche una meraviglia non metto a battere di nuovo benissimo ah ok adesso dobbiamo decidere con le potenziali fondamenta non voglio la distrille via just the occasion the crack open the distillery private reserve livello 5 ah non siamo ancora a livello 5 vabbè ragazzi per oggi il video può finire qui se vi è piaciuto commentate e iscrivetevi lasciate un mi piace bla 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 sto dimenticando qualcosa no vabbè ci vediamo al prossimo video come vedete abbiamo ricominciato la serie cioè non è che l'avevo diciamo stoppata che diciamo che non potevo registrare col vecchio computer eh niente mentre questo qua guardalo guardalo come scagazza per terra guarda non stavo mica dicendo fermati guarda quante guarda quante ne sta scagazzando vabbè guarda vabbè guarda vabbè guarda vabbè guarda tu sei bravo se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e commentate ci vediamo al prossimo video ciao ciao